La passalacqua a Ragusa espugna il Palace a Montana e batte nell'ultima partita dell'anno l'Empoli. Le padrone di casa hanno dato il filo dal torcere alla ragusana per tre dei quattro tempi e si è arresto solo alla fine grazie a una straripante Embi. Doppia doppia per l'americana e ha le doppie cifre di Romeo, Tagliamento e Consolini. Lo snodo della gara si è avuto nell'ultimo quarto, quando il quintetto di Coccio Recupito ha piazzato un break di 3 a 11, per poi amministrare il finale. Tra le toscane, Morris è stato l'ultima ad arrendersi, ma quando ha cominciato a girare a pieno ritmo il quintetto ragusano, ha lasciato poco o nulla alle padroni di casa. I primi due tempi sono invece stati veloci e molto combattuti, con Empoli sempre avanti, seppur di qualche incollatura. Ragusa stende a prendere le misure a Morris e Matias, che penetra con troppa facilità tra le maglie difensive. Primo quarto con Empoli avanti di 14 punti. Secondo quarto invece con le padroni di casa che accelerano. Il gioco veloce di Ragusa stende a decollare. Walker ed Embi difendono, ma vanno poco al canestro. Empoli va a riposo con una più sette, che fa sperare i tifosi toscani nell'impresa. Al ritorno in campo Ragusa comincia a macinare il gioco e a vedere il canestro. Al quinto sorpasso con Walker, 49-50, poi contro sorpasso dell'Empoli. A un minuto dalla fine è Ragusa sulla 53-58, grazie ai canestri di Nicolodi e Walker. La tripla A di Consolini porta le compagne al massimo vantaggio, 55-61, anche se Empoli recupera con Streppanova e chiude sulle 55-58. Ragusa comincia alla grande l'ultimo quarto. Al quinto è già più nove e la partita è in mano. A quattro minuti vantaggio di più 14, grazie anche all'ennesima tripla del capitano Consolini. Empoli non ha la forza per reagire e si arrende. La passalanqua vince e festeggia in anticipo il Natale e la fine della girone di andata da capolista.